Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo nuovo video ti spiego come ridurre i rumori fastidiosi quando registrate con OBS Studio Ovviamente si sbatte la porta, oppure c'è il clacson di una macchina giù, oppure quando una persona urla e si sente anche quel rumore fastidioso sotto Quindi grazie a OBS Studio possiamo fare veramente di tutto Aggiungere un filtro sul nostro microfono e in pochi minuti cambierà del tutto il microfono Quindi ovviamente questo è il nostro dispositivo, quindi se in questo caso stai alle prime armi su OBS Studio vai su più Cattura l'audio in entrata, clicchi qua, rinomina così il tuo microfono Ci sarà così questo cattura l'audio in entrata e da qui in poi potrai selezionare il tuo microfono Quindi io seleziono questo qua, come puoi vedere sto parlando e c'è la tacchetta che sale, sale e scende Quindi tasto destro su cattura l'audio in entrata, filtri, c'è riduzione del rumore e sensibilità dell'ingresso Quello che ci interessa a noi è la sensibilità dell'ingresso, ok? Quindi in questo caso su riduzione del rumore, per aggiungere questi due basta andare su più Sensibilità dell'ingresso e riduzione del rumore Ora vi spiego, riduzione del rumore, c'è il metodo, ci sono due metodi Diciamo che qua usa più la CPU, quindi in questo caso se hai un buon processore Ti consiglio buona qualità, più uso del CPU Lo Speaks, basso utilizzo della CPU Se avete un PC abbastanza buono, che riuscite ad andare avanti con il vostro PC Vi consiglio lo Speaks, basso utilizzo della CPU Io metto questo perché ho un buon processore C'ho il Ryzen 5 3600 E' ancora buono Quindi metto questo Sensibilità dell'ingresso e ora arriva alla parte migliore Quindi la soglia di chiusura Quindi in questo caso la soglia di chiusura Dobbiamo mettere meno 29 Soglia di abertura Soglia di abertura Meno 28 Decibel Tempo di attivazione 8 millisecondi Tempo di rilascio Sui 350 millisecondi Facciamo chiudere Quindi in questo caso se provate anche a schioccare le dita da lontano Il microfono non riprodurrà quello schiocco, ok? Quindi riprodurrà solamente la vostra voce Basta che avvicinate la bocca vicino al microfono Parlate E parlate con un tono fortissimo Abbastanza buono Che si senta solamente la vostra voce E registrate senza problemi Quindi Se questo video ti è stato utilissimo Io ti consiglio di iscriverti al canale Di lasciare un like Attivare la campanellina E se ti può interessare creare uno shot per TikTok o YouTube C'è il video su come rimuovere i bordi neri E fare una sfogatura, ok? Quindi grazie a tutti per questa visione E noi ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao